ciao a tutti amici di momada alla banana oggi con noi un carissimo amico vieni qua che sei vergogna deficiente vieni sarebbe il fratello di momada ma sei vergogna simoncino sr vieni vieni qua allora bentornati con questo video di assasti iscritti giuli vediamo se pomada è preparata non eravamo rimasti? eravamo andati a trovare gentiere bravissima l'avevamo liberato ci ha detto chi gli aveva commissionato quel cazzetto della lama però ho detto che è difficile trovare e non dobbiamo trovare quello vieni qua simoncino sr vieni non c'è vieni qua diciamo che abbiamo l'ospite invisibile ma sta qua con noi c'è ma non c'è mi suggerisco ci suggerisce vediamo un po' ci suggerisce che a me basta si inserite già no non c'è più avanti no ho fatta il gb che c'è dopo da un'argentiere di ryanola havettonet allora allora andiamo a vedere qui questo chi solo trovando si non si deve essere vuole spoiler voler vediamo un po' che missione bene la freniera dove ti nascondi la freniera freniera ok dove ti nascondi ma che stava corseo esimo qua ce lo vuole ha detto alla indaga non ce leggo alla faldo blu ok uccisioni con pistola zero di te recuperare le teste c'è sta ancora la missione rimane in mano ancora la domani alla fine del gioco cosa allora ci siamo un po' rifatti il look abbiamo cambiato la corazza la propria testa abbiamo preso una spada nuova vogliamo un attimo abbiamo ammazzati due mori ok la spada nuove tutta un'altra cosa un quantitativo di armi tutto che non ripara dalla pioggia la freniera in mente qualcosa di grosso quello cui siamo fatto se come questo accursiato perfetto non c'è quello se tu gli vai da te dietro è quello sta puntato verso da noi non chiede come fa così la bomba fumore c'era io ma ora io che strano non sarà mica svanito nel nulla vai non mi piace per niente andrè merda via di me cristoforo colore arampicati 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 subito vai ammazza questa arampicati vai 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 dove vai non te far vedere te far vedere che te sparano quindi c'è un omicida da qualche parte non credo proprio vaffanculo no quant'è arampica c'ho la corda del dietro le avete da là le avete da là che te sparano vai 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 bravo banà destra destra ottimo dice che facci sta cazzo ma no ecco sono troppo forte in questi al piano è grosso e adesso so dove trovare maestro chi è gran maestro la premiera la premiera come stavamo cercati non è prudente lasciare tutta questa roba in giro quindi vediamo fuoco a tutto che? perchè? qui ci avevo qualcuno che ha già fatta questa missione quindi sa già quella a cui sta mannaconto sta spoilerà non sto sbagliando le polveriere esploderanno andamosene ma io ce la tirai da qui che cazzo vuoi? scappa banà è invidio devi scappar banà via 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 sotto sotto r2 tondo r2 tondo r2 tondo sotto r2 tondo nel buco non l'avevo visto ahahahah ci vado aspetta forse ci devi accorrendo ecco ok ahahah ci stai guardando grande vai banà madonna che botta tui cazzi quanti li potevi fare? se dovevo pensarci meglio eh eh infatti vada vai su vai su oh dai spostate prova spostate l'altra volta sarà un picanosato Riffel l'altra volta va deficiente orcosciuta vai 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 fai così vai 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 grande è banà salta non si è fermata a fare qualcosa non si è fermata a fare qualcosa non si è fermata a fare qualcosa più bello mamma mia vai 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 ce l'avevamo fatta vai vai no crolla tutto no 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 vada che cazzo hai fatto vaffanculo ah Nasconditi in piena vista Già Mamma mia ragazzi Che ti fai applauso Perché Perché Così No Fiamo senza applauso Questa missione sarà un po' Siamo dovuti cambiare Gli armamenti per farla Perché sennò morivamo Allora ragazzi ci fermiamo qui Diciamo ancora non abbiamo trovato a questo Però già sappiamo qualcosa di più Vi saluto anche Simoncino SR E a me la voce dai Bella Ciao a tutti ragazzi Ciao